Anche quest'anno Alleanza Nazionale ha festeggiato il compleanno di Paolo Borsellino con un'iniziativa politica e culturale legata al pensiero e all'azione coraggiosa ed insostituibile del magistrato palermitano. Diventerà bellissima il titolo di questo omaggio che prende spunto da una delle frasi più celebre di Borsellino riferito alla sua Sicilia. La manifestazione di questa mattina aprirà una serie di manifestazioni politico-culturali legate alla difesa e alla valorizzazione del paesaggio dell'isola e costituirà una sorta di viaggio attraverso i suoi luoghi più significativi. Secondo gli organizzatori, con la nuova consapevolezza culturale, con i segni di rivolta degli imprenditori e con lo smantellamento da parte delle magistrate delle forze dell'ordine e dei vertici della manovalanza e della mafia, si percepisce un riguardo verso la propria identità ed un indedito orgoglio di appartenenza alla grande storia siciliana caratterizzata da una stratificazione culturale unica al mondo. Ed è proprio quest'ultima, secondo Enne, che ha subito i danni peggiori con la dinamica speculativa di una politica legata ad interessi gretti e particolari. Da qui la scelta di difendere e valorizzare il paesaggio per coglierne le straordinarie opportunità in termini di sviluppo economico e sociale. Il viaggio, nel nome di Paolo Borsellino, si snoderà fra le bellezze dell'isola minacciati da assurde cementificazioni delle coste, da lottizzazioni selvagge e da una industrializzazione devastante e sbagliata.